Il nuovo commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, il professor Vito Felice Uricchio, arriva a Taranto nel momento giusto, di pari passo con il lavoro che si sta facendo per rimettere in sesto lo stabilimento siderurgico, non bisognerà neanche per un momento dimenticare i danni che Taranto ha subito in tutti questi anni e che in verità non provengono soltanto dalla siderurgia, diciamo che a Taranto c'è stata una concentrazione di agenti inquinanti senza ritegno e per parecchi decenni. Oggi lo Stato corre ai ripari anche in virtù delle più stringenti norme sia a livello nazionale che comunitario. Nel primo incontro con il sindaco Melucci si è fatto il punto sulle questioni più significative che riguardano le operazioni di bonifica del territorio, a partire dal Mar Piccolo e dalla mitilicoltura, questione su cui il Comune sta procedendo con priorità per preservare le attività dei mitilicoltori e il presidio Slow Food della Cozza Nera Tarantina. Un territorio, quello ionico, che ha conosciuto di tutto sotto il punto di vista ambientale. Basti pensare al famoso caso Cemerad nella vicina state. Taranto nei prossimi anni dovrà anche aumentare la quota di verde urbano in città, in concomitanza con la realizzazione della Green Belt, oltre che alla cura e alla manutenzione della flora già esistente. Il commissario straordinario Ricchio dovrà affrontare importanti e strategiche iniziative in vista della formulazione dell'accordo di programma sull'Exilva, che pone tra i suoi obiettivi, ai sensi della normativa ambientale, l'avvio di significativi processi di riconversione. Al commissario straordinario alle bonifiche, il compito di raccordare le iniziative locali con quelle governative, nel senso di un adeguato finanziamento necessario a restituire dignità ai grandi spazi compromessi dalle attività industriali.